Settembre è generalmente considerato il mese della ripartenza dopo le vacanze estive, il mese del rientro dalle ferie per la maggior parte delle aziende. A fare il punto su quest'avvio della ripresa è la coordinatrice di Villa Veneto di Belluno, Sonia Brida. Ci aspetta ancora un settembre caldo perché la situazione del territorio è ancora un po' instabile. Posso dirvi che il settore dei metallomeccanici sta risentendo ancora parecchio la situazione geopolitica, l'inflazione e molte aziende sono ancora in cassa integrazione purtroppo. Quindi il monitoraggio costante in tutte le aziende sarà d'obbligo per noi. Qualche timore, puntualizza Brida, riguarda anche il mondo dell'artigianato. Anche le piccole aziende stanno soffrendo con le richieste di cassa integrazione che ancora ci arrivano. Sull'artigianato posso però dare una buona notizia ai lavoratori che con almeno 10 giorni di cassa integrazione possono chiedere un piccolo ristoro, un piccolo contributo all'ente bilaterale EBAF tramite lo sportello sindacale. Quindi invito i lavoratori che magari stanno soffrendo per la cassa integrazione a rivolgersi al sindacato. Una certezza per la provincia dolomitica continua ad essere l'occhiale. L'occhialeria continua il suo trend positivo, tutte le fabbriche dell'occhialeria sono a pieno regime sia a livello di assunzione che di lavoro. Quindi benvenga che il nostro occhiale continui a reggere il sistema economico.